Nelle rassopatie sono molto frequenti le problematiche gastrointestinali. Queste iniziano sin dai primi mesi di vita, per lo più sono problematiche di tipo funzionale, ovvero hanno dei sintomi molto molto significativi che possono causare grandi discomfort sia al bambino che alla famiglia. Le principali problematiche sono caratterizzate dal vomito, dalla stipsi, dal dolore addominale ricorrente e il bambino ogni qual volta una sintomatologia di origine gastrointestinale sia del tratto gastrointestinale superiore che inferiore ha una sensazione di tale fastidio, di tale discomfort, come dicevo prima, da percepirla come dolore. Per cui da parte nostra è molto importante cercare di trovare una strategia terapeutica significativa allo scopo di migliorare la qualità della vita del bambino e delle famiglie e l'alimento che abbiamo a fine medici speciali che abbiamo concepito va anche ad agire sul ridurre i sintomi gastrointestinali e ridurre la sensazione dolorosa che da questi è evocata.